salve amici del canale benvenuti in questo nuovo video ringrazio sempre tutti per coloro che si sono ovviamente iscritti al mio canale ma ringrazio anche coloro che mi seguono e ancora stanno decidendo di iscriversi al mio canale ragazzi allora voglio precisare una cosa qualcuno mi sta chiedendo prima dell'iscrizione al mio canale come se qualcosa fosse difficile a farsi effettivamente dei consigli e sinceramente parlando ho deciso a questo punto per convincervi ma non a iscrivermi al mio canale ma ad avvicinarvi a questo mondo veramente molto complesso ma allo stesso tempo affascinante di farvi questo video appunto perché delle alcune penne che ho nella mia collezione ne ho anche altre vi voglio far vedere quale vale la pena comprare e quanto spendere allora ho fatto dei giudizi finora di tutte queste che vedete tranne questa perché questa è una fascia un po più economica però vi dico quale tra tutte queste qui che vedete che sono anche alcune di marchi diversi quale comprare e secondo me non perché voglia criticare gli altri c'è gli altri marchi ma quale secondo me vale veramente la pena comprare fra tutte quelle che vedete soprattutto per i neofiti e anche i più esperti allora questa è la prima monte grappa mia serie limitata secondo me va bene perché una delle penne che scrivono meglio mettiamo a fuoco perché è completa di tutto tranne che per diciamo il fatto che non sia in celluloide questa è monte grappite va bene ma ragazzi comunque spendete oltre 500 euro parliamo di 690 euro quindi ragazzi è bella per i collezionisti e per i professionisti anche se scrive molto bene anche per i neofiti parliamo di questa monte grapp che mi è arrivata da poco la tartaruga quindi la 1930 extra ragazzi vale la pena solo per collezionisti appassionati del marchio perché diciamo ha un pennino che con il tempo si sta modificando perché vi dico che si deve adattare alla mia mano e vi dico che non è tanto semplice da gestire come sembra è bella tutto quello che volete ma come me che sono amante della monte grapp va bene ma per i neofiti no perché è una penna complessa costosa che costa oltre 1200 euro e sinceramente mi consiglio di diciamo farla acquistare ai veri appassionati di stilo grafiche comprate le monte grapp che tipo la elmo 01 che costa anche 200 euro e quella veramente un'ottima penna ci sia questa che è la visconti medici colore blu che poi fanno altri colori ottima penna ma difficile per la gestione e manutenzione a causa del piston filler ricordo che piston filler è un caricamento un po diverso dalle comuni penne stilografiche io consiglio per coloro che si stanno avvicinando alle stilografiche di utilizzare un converter come questa vi faccio vedere questa è una stipula vedete il converter e questo caricamento qua lo dico per coloro che mi stanno chiedendo ma come funzionano le penne stilografiche ora vi faccio un preambolo di tutte quelle che ho e vi dico quale acquistare per andare sul sicuro questa appunto è la stipula come dicevo bella da vedere da collezionare ma non da utilizzare perché ci sono alcune false partenze e si comporta bene la penna tutto sommato da zero a 100 gli diamo anche un 90 la bellezza è veramente qualcosa di incredibile poche come queste esistono però è troppo ingombrante pesa poco nonostante la sua grandezza ma ingombra troppo questa è buona per i collezionisti e nient'altro ottima per provare gli inchiostri con un pennino m molto delicato veramente eccezionale ottimo lavoro da parte della visconti l'unico problema sempre piston filler ed è un po pesante perché è fatta di lava come potete vedere però molto bella da mettere in vetrina come questa perché da nell'occhio e facendola vedere ad alcuni amici che sono venuti a casa mia mi hanno detto che questa era la migliore passiamo oltre velocemente perché voglio arrivare poi alla conclusione della cosa allora questa è la mont blanc mont blanc 149 come potete vedere quella con il pennone sarebbe molto bella sempre gli extra fini però difficile da diciamo da gestire dal punto di vista della garanzia perché i ragazzi queste mont blanc costose quando si rompono dovete per forza fare uso della garanzia voi non difficilmente riuscite a trovare i pezzi per poterla smontare oltretutto sono molto complesse come penne queste qua quindi dovete per forza mandarla in germania e loro la diciamo cioè così mi è stato detto dal mio venditore di penne che la deve mandare per forza su per farla riparare e se alcuni pezzi a loro dicono che è stata rotta da me sono veramente soldi quindi questa la sconsiglio ancora una volta per i neofiti perché è anche complessa da utilizzare stessa cosa anche per quest'altra mont blanc questa è più piccola la mont blanc marcherciuk è una 145 molto bella ma ragazzi c'è il difetto che alcuni inchiostri come ripeto il l'iro shinsugu anche qui e come questa tendono a fuoriuscire dal pennino quindi questo significa sono dei difetti che un neofita se mettiamo gli regalano una penna del genere e vuole comprare un inchiostro abbastanza buono vado a un venditore gli da l'iro shizuku sicuramente perché è uno dei migliori sul commercio perché è anche costoso e alla fine si ritroverà i rebi delle penne a perdere inchiostro come in questi due casi sarà il caso mio non lo so però vi dico che a me danno problemi questa la stessa cosa con l'iro shizuku mi ha dato problemi la pelican nonostante l'inchiostro pelican è veramente molto fluido e vi dico che questa comunque se mettete pelican soprattutto le resten scorre una bellezza è un'ottima penna quindi è una di quelle che consiglio ad acquistare però ripeto facile anche da smontare il pennino anteriore si svita e quindi la potete anche voi da casa cambiare il pennino lo ordinate una misura diversa e vi arriva a casa il costo è intorno ai 400 euro io l'ho pagata tre e qualcosa poco meno di 400 euro ne vale la pena per la bellezza si fa notare ed è molto piccola e tascabile poi abbiamo la monte grappa mia serie serie di un tempo stessa cosa della monte grappa mia qui solo che la differenza è che il pennino è diciamo sempre come questo un po' diverso dalla forma ma tra virgolette parliamo anche di celluloide una volta le facevano in celluloide quindi hanno messo la resina però per lo stesso prezzo non ne vale la pena perché portare con sé una pena del genere per neofita può essere un problema questa è una diciamo leonardo è una delle penne più belle e buone che ci sono in commercio attualmente buono anche il prezzo intorno ai 200 e qualcosa quasi 300 euro però troppo incombrante enorme al conduttore in ebanite quindi complimenti a leonardo però per ignofiti non va bene e poi abbiamo questa che è una semplice penna che ho comprata economica va bene per coloro che vanno a scuola però ragazzi false partenze problemi che va bene non vi dico neanche che marca è perché la tengo così per tenerla quindi per le stilografiche non avvicinatevi mai a questi prodotti perché vi passa la voglia di scrivere con le stilografiche va bene per colore vogliono dire vabbè tanto per me la porto a scuola per far vedere che ho una stilografica ma vi dico che secondo me andrebbe comprata una penna di un certo livello e poi infine abbiamo la leonardo furore allora ragazzi tra tutte le penne che vi ho mostrato tutte quante la leonardo furore è la numero uno la numero uno perché va bene per neofiti va bene per coloro che hanno già un certo estro con la scrivere con le penne stilografiche qualità prezzo eccezionale io l'ho pagata a 170 euro quindi è questa la penna che dovete acquistare tutti per avere l'avvicinamento alle stilografiche consiglierei anche la Montecrappa Elmo 01 come dicevo prima perché ha un costo leggermente più elevato di questo questa dovrebbe trovarsi mi sembra 179 in commercio pagata 170 con un po' di sconto dal venditore ma ragazzi anche la Elmo Montecrappa 01 è un'ottima penna ma costa qualche euro in più una ventina d'euro in più in donne 200 euro c'è qualcuno la vende anche meno ma qualcuno ho visto la vende anche 220 dipende dal pennino se prendete l'extrafine costa molto quindi 220 2 10 questa qui vi costa 179 euro con qualsiasi pennino vi dico di comprare questa quindi risparmiate 30 40 euro e rispetto alla Montecrappa e molte altre penne perché questa non dà veramente problemi su niente veramente io con questa se volessi scrivere sulle mura scriverei benissimo supporta tutti gli inghiostri che ho fatto le prove con l'Iroshizu ho fatto le prove con il Montecrappa ho fatto le prove con la Leonardo ho fatto le prove con tutti gli inghiostri che ho anche Pelican nessuno mi dà problemi questa regge qualsiasi cosa la potete mi è caduto il tappo 4 5 volte a terra e non si è rotto a parte la diciamo la bellezza di questa resina questa è resina non è celluloide e oltre la celluloide cioè allora il fatto è questo uno deve spendere soldi quasi milioni se non milioni ecco per una penna che sia fatta in celluloide e questa invece che è fatta in resina in realtà guardate che meraviglia io vado con molta lentezza per farvi vedere proprio tutte le screziature della della penna e ragazzi questo è l'oceano puro guardate che brillantezza vi faccio vedere non c'ha un'imperfezione il video rende meno di come effettivamente è e faccio i complimenti a questi ragazzi della Leonardo perché a parte diciamo la bellezza questa si fa notare credetemi attendo alle donne soprattutto alle ragazze perché io a scuola me la portavo diciamo quando andavo all'università quella è uscito da poco e vi dico che le ragazze soprattutto le donne mi venivano vicino a chiedere la penna come regalo se veniva un'occasione questa penna molte la volevano volevano giustamente essere regalate e vi dico che da veramente nell'occhio c'era anche un bidello diciamo nell'istituto che un giorno firmai l'ingresso durante diciamo la pandemia dopo la pandemia e vi dico che la notò mi disse che voleva acquistarla perché è una penna eccellente oltretutto questa c'ha il sistema di caricamento anche da qui per evitare di sporcarvi quindi potete caricarla dal posteriore si svita dietro oltre che quello anteriore e ragazzi supporta qualsiasi inchiostro non ha perdite non ha nulla che possa diciamo portare danno alla penna è un caricamento semplice io ho comprato delle cartucce che sono indelebili poi faremo un video sulle sulle inchiostri indelebili quelli la che non dovrebbero andare via con l'acqua perché voglio avere una collezione anche di questi e proverò anche quelli su questo perché per ora non ce li ho ancora ho prenotato qualche indelebile ragazzi tutti coloro che mi avete cioè tutti voi che mi avete chiesto ora quale penna comprare per prima per avvicinarci alle stilografiche prima di passare a queste perché sono comunque da comprare sono ottime tutte ognuno ha una caratteristica diversa comprate questa qua secondo me per avvicinarvi perché vi farà innamorare e ragazzi scusatemi se poi diventerà una diciamo dipendenza da queste penne perché questa qua vi renderà la vita molto difficile per evitare gli acquisti perché veramente vi farà credere nelle stilografiche e vedrete la scorrevolezza rispetto alle penne classiche extra fine ve lo consiglio extra fine o anche fine però fine già scrivete ancora meglio però ricordo che i fini possono imbrattare le carte dietro soprattutto quelle delle foglie dei fogli dei stampanti quindi ragazzi la mia pagella per secondo le mie visioni è proprio il massimo che darò come pagella per tutte le penne che vedete qui in evidenza sono tutte eccellenti passano tutte l'anno scolastico per fare un paragone così banale ma questa è quella che prende la lode per me è la migliore 179 euro 170 euro la potete trovare forse anche meno qualche venditore non lo so ragazzi andate con questa soprattutto questa leonardo furore se la riuscite a trovare ancora sono serie limitate addirittura mi sembra numerate vedete numero la mia è la 4519 e ragazzi comprate questa non vi troverete male vedete bene questi video perché io lo faccio per voi non per me quindi i prossimi video che farò quando mi arriverà l'inchiostro indelebile lo faremo proprio su quello e vedremo se ne vale la pena o meno acquistarli grazie per la visione ringrazio di cuore alcuni che mi commentano spesso e al prossimo video grazie